L'atteggiamento impressionante oggi della squadra è stato un elemento decisivo per i tre punti. Perché no a Cremona? Non ho ancora digerito bene la Cremona, però oggi solo si può parlare bene dei ragazzi. Ragazzi, pubblico, squadra, empatia, spirito, sofferenza, lavoro, organizzazione, intelligenza tattica. Se lo posso parlare bene e dopo qualcuno mi dice che lui ha fatto una parata strepitosa, è giocatore della Roma, è lì per fare questo. Per me è vittoria ultrameritata, sono molto contento. Grande equilibrio tattico, siamo tutti contenti che abbia segnato anche Mancini, che è un po' l'emblema della volontà e del carattere di questa squadra. Gianluca merita tanto questa cosa perché sta facendo una stagione di grandissimo livello, ha cresciuto come giocatore, ha cresciuto come uomo, ha cresciuto la sua intelligenza in campo. Uno che l'anno scorso ha preso, non lo so, 13, 14 gialli quest'anno a 4, è un giocatore pulito, è un giocatore serio. Sono molto molto contento per la verità, è che non è stato un caso isolato dentro del contesto della squadra. Tutti i giocatori della squadra che sono stati lì, tutti loro al suo modo e con le sue caratteristiche, hanno fatto questa partita. Grazie. Grazie.